Dai cazzo dai Ma come cazzo si fa è impossibile Minchia zio vedi che devi sparare all'orologio Ciao a tutti ragazzi come per vostra sfortuna CX Murray e bentornati finalmente in un nuovo video della rubrica Ah però oggi come promesso siamo tornati per mia sfortuna questa volta su Strange Adventure purtroppo siamo tornati Allora ragazzi molti di voi mi hanno detto mi hanno spiegato che il livello era semplicissimo dovevo semplicemente sparare all'orologio Come avete visto già dall'intro quindi vabbè continuiamo e vediamo cosa ci riselva questo gioco Allora qua praticamente l'ho già fatto perchè purtroppo è la seconda volta che registro questo video Ok eccoci qua spero si veda appunto bene ragazzi non so Sì spero di sì comunque penso di sì comunque si veda come sempre allora Abbiamo detto abbiamo praticamente capito che quel livello era praticamente un cazzo di troll Qua il problema è che c'è Ecco esatto c'è questo fantasmino di merda che non si leva dalla strada E non capisco bene come si possa superare Allora quindi sicuramente dobbiamo far così Poi qua dovrebbero partire i mistili esatto Bene allora il problema è che arriva di qua Amo io posso fare praticamente due robe salto qua Ok faccio così Ok bella vai che ci siamo riusciti forse Vai che forse ci siamo riusciti Saltiamo così Sì sì ok ce l'abbiamo fatta Allora sicuramente qua ci sarà qualche troll Difatti ma di fatti cazzo Ok checkpoint vediamo come si potrebbe Allora checkpoint col cazzo Perché qui ragazzi abbiamo dei bei problemi Come ah ecco Eh ma come faccio a saltare fino in sopra Eccolo là grandissimo burri che Che li becca primo colpo vai vai Sì vai puttana adesso me la dai cazzo Ok win possiamo andare avanti Sono appena caduto perfetto Cosa ci ha appena detto Ma I'm always told Ma I'm always told Me to not be a fat guy What the fuck ok Oh perfetto dobbiamo centrare Ancora prima di Ragazzi sto per incazzarmi A bestia proprio Ma dice sul serio Allora Allora calmissimi calmissimi Perché qui non ci arriviamo Allora Cazzo Come cazzo faccio Si 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 cazzo Allora la nuvola C'incula sicuro Madonna ragazzi Sarà anche questo un livello Veramente da Da crisi Sarà un livello da panico Ragazzi Già Già me lo sento No porca Allora allora Abbiamo capito No 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 Mi sa che dobbiamo cadere Esattamente Non sapete dove Qua No Si bella Vai Dai prendi il cazzo Di checkpoint Si 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 Checkpoint presa Allora Adesso Lo sapevo Mi immaginiamo Ma l'importante è che siamo arrivati Al checkpoint raga Quello è l'importante Qua lo facciamo passare Andiamo noi Ma come cazzo può si Cioè come facciamo a prenderlo Cioè non ci arriva No cazzo Allora Aspettate Vai Dai si No Per un cazzo di pelo Porca troia Ok Allora Abbiamo visto però come si fa E questo è un bene E questo non è un bene Porca puttana Ok Uno Adesso mi fermo qui Vai Si Si Vai Vai Cazzo L'abbiamo fatto anche Questo laviello Stiamo andando benissimo To save her Knock for 30 times Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unici Dove Tre Quattordici Quindi Sei Sette 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 Io non penso Sarà così Semplice Ok Pezzo di Merda Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ok Non ci siamo Andiamo con calma Andiamo con calma Ragazzi Ragionando si risolve Tutto Non è che Ok 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 No 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 Che cazzo è Cat Mario È arrivato Cat Mario Ma porca Ma da dove è uscito Pezzo di Merda Ah devo salire Lì Ah che Ciollone Che sono Ma da dove è uscito Cat Mario Si è preso in video Dell'ultimo video Ma porca Troia È allucinante Ragazzi Sto gioco Di merda Ok Scappa Suka Sucamelo Forza E mo E mo Che faccio E dov'è E dove cazzo è il 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 cosa da cliccare Dove cazzo è il cosa da cliccare Ragazzi Porca puttana Adesso mi ci blocco tutto il tempo Guarda Allora Abbiamo detto che lì Eh ma Ragazzi sarà un problema Perché Forse ho capito Forse ho capito No non ho capito un cazzo Ragazzi Perché Perché qui Dopo il primo Già Oh Bitches That's how we roll Grandissimo Murray Grandissimo Murray Ce l'abbiamo fatta Never Take up arms And never fall back Che cazzo Che minchia devo Che minchia devo fare Ma è un cavallo Come faccio Ad andare contro un cavallo Passo di sotto Non passo di sotto Ma puttana Ma è normale Forse ho capito Forse ho capito Forse ho capito raga Faccio così Dai Cadi Come cazzo faccio Cioè Madonna santa Sto gioco di merda Mi fa Mi fa veramente andare In pappa il cervello E io vado indietro E io vado indietro Can I never fall back Come cazzo faccio Scusa Allora Scusatemi Qua mi cade il cavallo In testa Madonna ragazzi Sti giochi di merda Che mi consigliate Vaffanculo Non ne farò più Episodi Sto schifo Veramente Allora Che cazzo Never fall back E che faccio C'è il cavallo Il cavallo di troia Che cazzo Che cazzo Dove ho fatto Maddio santo Maddio Pezzo di merda Pezzo di merda Proprio Vai Ah Oh assurdo Vai Vai No Bastardo Bastardo Ok forse ho capito Forse ho capito Vai 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 Sì No Sì Sì Vaffanculo Puttana di precipenza Sì Sì cazzo Grandissimo Murray non delude mai Oh che cazzo è Oh ma è quel tempo di iniziare Porca troia ragazzi Ok partiamo Partiamo No 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 Non ci siamo capiti Allora devi partire subito Parti Parti Non prende Allora ragazzi lo vedete Non prende il cazzo di comando Noo por- Ah ok aspetta allora Porca troia Dai cazzo dai Dio santissimo Ok faccio così Zuka Noo Bastardo Bastardo Sì No No il jump me l'ha cambiato Me l'ha cambiato Me l'ha messo sopra Che pezzo di merda Che pezzo di merda Pezzo di merda Me l'ha messo di nuovo sotto È incredibile Mi sta trollando Mi sta trollando Ma porca di qua È il tuo Ma è allucinante Allucinante Gioco di merda Ma che cazzo Ma mi prende per il culo Sto cazzo di gioco Di merda Porca di quella È allucinante Ragazzi è allucinante Che cazzo è successo qua al pc Rifacciamo Allora Che allora Allora Calmi 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 Allora Allora Madonna santa Ma ce la fai? Ce la fai? E vai Tsuka Sì il save Ok Raga se finiamo sto livello Vi giuro Vi bacio tutti Corri 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 No Gotasucker What the fuck Non è lei? Non è lei? Io cado qua Non è lei raga Non è lei Come cazzo faccio? Eh io Io baffanculo Io baffanculo Passo di qua Faccio così E salto qua Ci torna qua sicuramente Qualche altro cazzo Di ingranaggio Eh gotasucker Come cazzo fa? Ah ok Forse ho capito La devo scavalcare sicuro Raga Madonna santa Come cazzo si fa Scavalcarla? Pezzo di merda Pezzo di merda True love No true love Porca troia True love Mannaggia Vai Vai Devo capire più o meno A che punto è Qua Salta Porca miseria Porca miseria Veramente Pezzo Cos'è adesso? Muore da solo Ogni tanto Pi e si ammazza Sto cazzo di Di stronzo qua Mannaggia Devo capire E io cado di qua Attenzione Chi è il re? Chi è il re ragazzi? E murri Cazzo Ok ragazzi Questo video Finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Se così fatemelo sapere Lasciando un bel mi piace Io non so se farò Altri episodi Dipende sempre Da voi Però appunto Fatemelo sapere Lasciando un bel mi piace Questo così E soprattutto Lasciatemi un commento Consigliandomi Come sempre I giochi per la rubrica Ah però Detto questo ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per tutto il supporto Che mi date Ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Ciao 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 ciao